Beh, voglio dire, abbiamo cercato di conoscere il più possibile l'esperienza di Ferragamo in vita e in morte, e quindi era inevitabile parlare di Wanda. Questo film esce al cinema, esce per i Sony Picture Classics nel mondo e per la Chi Raid in Italia. È fondamentale. Sono un uomo fortunato perché fai film e vanno al cinema.